Quali sono le migliori community cripto del 2022? Benvenuti su Cryptovaluta Italia. In questo video andremo a visionare la classifica, la top 10 delle community delle criptovalute più numerose, più popolari che ci sono attualmente sul mercato. Parliamo per milioni di follower, sì perché vi annuncio già, vi dico già che la decima posizione, già la decima posizione abbiamo una criptovaluta dove il suo account Twitter ha 1,2 milioni di follower, ok? E quindi di conseguenza la prima domanda che vi voglio fare qui è stoppate il video e provate a prevedere secondo voi qual è la classifica, la top 10, lasciatela scritta nei commenti e poi andiamo avanti e la vediamo assieme. Non imbrogliate, non barate perché poi alla fine è solo un gioco per capire essenzialmente invece cosa pensa il mercato. Quindi secondo voi la classifica sarà questa, troveremo al primo posto Bitcoin e al secondo Ethereum oppure ci sarà qualche altra criptovaluta che si trova in una posizione migliore? Scopriamolo appunto partendo dalla decima posizione. Al decimo posto troviamo Cardano Community con 1,2 milioni di follower. Cardano si trova al settimo posto di CoinMarketCap, quindi come potete immaginare la posizione non riguarda l'attuale capitalizzazione di mercato di una criptovaluta. Vi ricordo, questa è una cosa importante che ci tengo a precisare, che quando dobbiamo analizzare la potenziale crescita e il potenziale aumento di valore di un token, sicuramente oltre alla capitalizzazione di mercato che è fondamentale perché più cresce più potenzialmente il token viene utilizzato, è importante anche vedere quella che è la community, visionare la community, conoscere la community perché più una community è coesa, più c'è supporto dietro comunque una blockchain, un token, più potenzialmente può aumentare di valore perché ci sono molte persone che magari sono bullish su quell'ecosistema, su quella community, ok? Quindi Cardano, e questo ci tengo a precisarlo, nonostante sappiamo benissimo che non si è evoluta come si doveva evolvere ma probabilmente il 2022 sarà l'anno di Cardano, vediamo, speriamo, è comunque una cripto che si trova nella top 10 di CoinMarketCap e ha una alta capitalizzazione di mercato proprio perché ha una community coesa, ma adesso passiamo alla posizione numero 9. Al nono posto della classifica delle top community troviamo SafeMoon con 1,4 milioni di follower iscritta a marzo 2021 in quanto è una cripto che è stata lanciata come vediamo anche su CoinMarketCap proprio all'inizio del 2021, perlomeno è stata entrata a far parte di CoinMarketCap, quindi del tracciamento, del tracking di CoinMarketCap proprio in questa data. Andiamo a vedere un po' quella che è la storia, non è una cripto che abbiamo analizzato ancora nel nostro canale ma penso che lo faremo visto che si trova pure in una posizione molto importante di community è stata lanciata l'8 marzo 2021, non abbiamo il massimale qui in basso, l'avevo visto prima quindi non è stata tracciata questa cosa, però se io vado a guardare qui più o meno ce la ritroviamo a 0,509 adesso si trova 0,1234501, considerate che i dati naturalmente che vi sto dando possono variare perché dipende quando guarderete questo video, però capite bene che adesso lo stiamo vedendo a questo prezzo potenzialmente, vista anche la community, un pensierino uno ce lo può fare. Non sono consigli finanziari, l'analizzeremo ve lo prometto, voi fateci sapere invece cosa pensate di SafeMoon nei commenti qui in basso e se avete già investito. All'ottavo posto troviamo una delle nostre criptomonete preferite, l'abbiamo analizzata qui sul canale abbiamo anche realizzato dei video dove vi abbiamo spiegato come mettere a rendita questa criptomoneta parliamo di Solana che ha 1,4 milioni di follower, per esattezza ha 1,469 mila follower se andiamo su CoinMarketCap Solana la troviamo al posto numero 8 e se ci pensate si trova nella stessa identica posizione di CoinMarketCap quindi questo è il primo caso che abbiamo incontrato all'interno di questa classifica di criptomoneta che rispecchia sia con le community sia con la capitalizzazione di mercato la posizione corretta, coerente in entrambi i casi e questo ci fa capire comunque una cosa fondamentalissima che Solana è una top criptomoneta, una top criptovaluta perché è una grossa community ma è una grande capitalizzazione di mercato sappiamo bene che nel decentralizzato possiamo fare tantissime cose ha dei costi irrisori di transazioni, è molto veloce, ha qualche problema di sicurezza e secondo me quando risolveranno a 360 gradi, se li risolveranno questi problemi di sicurezza può sicuramente schizzare di valore, in questo momento mentre stiamo registrando il video Solana ce la ritroviamo un valore di 90€ ma sappiamo che il suo massimale è oltre 200€ quindi sicuramente no consiglio finanziario ma per noi è un best buy e al settimo posto troviamo CrowCrypto.com vi annuncio che in questa classifica troverete anche le piattaforme e gli exchange ufficiali dove al suo interno ci sono naturalmente le cripto che rappresentano questi exchange nel caso di Crypto.com e Crow mi annuncio che sul canale abbiamo realizzato tantissimi tutorial su Crypto.com app ed exchange sia su Crow la moneta quindi andatevi a vedere se avete bisogno di avere maggiori informazioni noi siamo estremamente bullish su tutto l'ecosistema Crypto.com crescerà sempre di più, secondo noi è perfetto anche per chi si approccia nei primi momenti al mondo delle criptovalute perché tra le altre cose dal link in basso dove avete un bonus di 25$ se vi iscrivete a Crypto.com in Crow Crypto.com nei primi 30 giorni vi dà la possibilità di pagare con carta senza commissioni e questa è una cosa che non fa quasi nessuno 1,7 milioni di follower è quasi 1,8 in questo momento su CoinMarketCap troviamo Crow alla sedicesima posizione con una capitalizzazione di mercato di 11 miliardi di dollari ma di euro quindi in dollari sarà qualcosina in più valore 43 centesimi ma sappiamo che ha raggiunto quasi 90 centesimi di euro qualche mese fa a novembre quindi sicuramente no consiglio finanziare lo specifico sempre ma sicuramente potrebbe essere un best buy in questo momento visto anche che c'è stato un piccolo crollo del mercato e a grande sorpresa nella sesta posizione troviamo Ethereum questa è una grande sorpresa perché Ethereum sappiamo bene che si trova al secondo posto di CoinMarketCap e dopo Bitcoin è la criptomoneta più importante al mondo sicuramente la numero uno per quanto riguarda il mercato decentralizzato degli NFT 325 miliardi di capitalizzazione Ethereum ha 2,2 milioni di follower su Twitter ok non c'è bisogno di spiegarvi chi è Ethereum che cosa fa Ethereum chi sono i fondatori eccetera perché conoscete un po' tutto all'interno del nostro canale abbiamo trattato tante volte Ethereum quindi vado subito avanti con la posizione numero 5 in quanto poi vedremo assieme dettagliatamente la posizione numero 3 e alla posizione numero 5 troviamo Ripple XRP con 2,4 milioni di follower la troviamo all'interno di CoinMarketCap al posto numero 6 quindi diciamo che qui ce la troviamo al quinto posto qui al sesto posto più o meno con bacia con quello che è il valore di mercato 73 centesimi di euro il suo valore 34 miliardi la capitalizzazione diciamo che è una cripto storica un po' come Ethereum e quindi di conseguenza ha una community molto coesa potrebbe essere un best buy anche XRP ma in generale questo ve lo dico mentre sto registrando il video visto che c'è stato comunque un calo negli ultimi mesi del mondo cripto potenzialmente potrebbe essere qualsiasi cripto che abbia un valore reale un buon investimento perché può aumentare di valore ma fate le vostre analisi e al quarto posto troviamo Shiba Inu che abbiamo trattato con un'analisi specifica qui all'interno del canale a 2,8 milioni di follower quasi 2.830.000 quindi 2.830.000 iscrizione a febbraio 2021 in quanto è una cripto nata lo scorso anno su CoinMarketCap la troviamo alla posizione numero 14 eccola qui livello 14 il suo valore attuale è di 0,402 sappiamo anche che ha avuto un massimale importante lo scorso anno vediamolo assieme e poi passiamo alla top 3 il suo massimale è stato di 0,407792 quindi diciamo che potremmo fare un per 3 più o meno in questo momento e al terzo posto troviamo la mamma di tutte le meme coin Dogecoin iscritta a Twitter nel 2013 ma che è pompata alla grande lo scorso anno grazie ai tweet di Elon Musk 3 milioni di follower la troviamo su CoinMarketCap alla posizione numero 11 ha un valore attuale di 13 centesimi di euro capitalizzazione di mercato 17 miliardi di euro diciamo che c'è un'enorme differenza rispetto ad altre crypto che abbiamo già visto tranne come abbiamo visto alcune che si trovano in posizioni assurde su CoinMarketCap però Dogecoin qui la troviamo al terzo posto qui all'undicesimo posto non so quanto possa crescere ancora sicuramente sappiamo che Dogecoin ha avuto un massimale incredibile lo scorso anno e diciamo che è una crypto che subisce un po' anche le fluttuazioni dei tweet ecco di Elon Musk è arrivata a 64 centesimi di euro l'abbiamo già analizzata sul canale quindi vi straconsiglio di andare a visionare i video che abbiamo fatto ed incredibile ma vero al secondo posto troviamo Bitcoin molti probabilmente hanno predetto come posizione di Bitcoin il primo posto ma non è così Bitcoin si trova al secondo posto con 4,6 milioni di follower Bitcoin quando parliamo di criptovalute associamo al mondo delle criptovalute subito dalla parola Bitcoin iscrizione ad agosto 2011 sappiamo benissimo che su CoinMarketCap si trova al primo posto 700 miliardi di euro e passa di capitalizzazione di mercato attualmente ha un valore di 38 mila euro che lo fa diventare per forza di cose a chi è bullish nel mondo cripto un best buy perché sappiamo bene che ha un massimale molto ma molto importante e molti esperti pensano che possa arrivare ai 100 mila dollari di valore quindi sicuramente può essere un buon investimento no consigli finanziari beh per Bitcoin cosa dirvi l'abbiamo analizzato talmente tante volte nel canale conoscete tutto di Bitcoin quindi sarebbe superfluo stare qui a dire alto sicuramente però ci sorprende non trovarla al primo posto e adesso vediamo chi si trova al numero uno al posto numero uno di questa speciale classifica delle migliori community criptovalute del 2022 al primo posto di questa speciale classifica troviamo Binance con il suo token ufficiale BNB 7,6 milioni di follower sappiamo benissimo che Binance è il miglior exchange al mondo il più conosciuto questa classifica lo dimostra infatti se noi andiamo su CoinMarketCap voglio farvi vedere innanzitutto BNB si trova al quarto posto con una capitalizzazione di mercato di 62 miliardi di euro e questa capitalizzazione di mercato secondo noi è destinata a crescere come è destinata a crescere anche il valore intrinseco del token stesso sappiamo bene che ha avuto un massimale importante ma se io vado qui su CoinMarketCap e vado negli scambi spot come potete vedere trovo al primo posto Binance quindi diciamo che ci sta questa posizione certo fa strano vedere BNB Binance prima di Bitcoin però comunque ormai è l'exchange che tutti noi utilizziamo per comprare criptovalute e di conseguenza si trova alla posizione numero uno detto questo voi vi immaginavate questa classifica sono curioso di leggere nei commenti le classifiche che avevate predetto prima di andare a visionare questo video e naturalmente fateci sapere poi cosa ne pensate e secondo voi invece come ci ritroveremo poi nel 2023 quindi come potrà cambiare la classifica delle migliori community soprattutto anche magari con nuovi progetti che stanno nascendo e se in questa top 10 può entrare una cripto come per esempio mi viene in mente Terra Terra Luna ok fatecelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto